E' terminato l'incontro 1 a 1 tra la Virtus Castelfentano e il Piazzano. 1 a 1 è passato in vantaggio prima il Piazzano, dopo abbiamo pareggiato sul calcio di rigore. Mi pare che ci siamo tutti a un punto, tutti pareggi ci sono usciti a questo girone nostro, tutti pareggi, tutti pareggi ci è uscito. Forza mister, una bella gara.